Dibattiti, seminari, stand, esperimenti e dimostrazioni, mostre e rassegne e spettacoli teatrali e musicali costituiranno il ricco calendario di eventi programmati per il 30 settembre nel campus universitario di Chieti in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione che l'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara organizza ogni anno aprendosi ai giovani, futuri studenti e ricercatori di domani. Dopo il tema della bellezza scelto per l'edizione 2021, lo slogan di quest'anno è il sapere che include. L'evento del prossimo 30 settembre, annunciato con largo anticipo, è stato presentato nella sala consigliare del rettorato dell'Università d'Annunzio. Professore Arcangelo Merla, delegato del rettore alla terza missione di Ateneo, è responsabile del gruppo di lavoro che organizza l'evento, la Notte dei Ricercatori, il 30 settembre. Perché questo largo anticipo? Perché abbiamo bisogno di far sapere al territorio che confermiamo la presenza di questo evento. Questo è un evento che è stato molto gradito, con una partecipazione sempre molto ampia e siccome le scuole sono per noi un bacino di riferimento per il successo della manifestazione e per il coinvolgimento del territorio, questo largo anticipo permette alle scuole di organizzarsi e di arrivare preparate poi all'evento. Cosa accadrà il 30 settembre? Riproporremo esattamente lo stesso format dell'anno scorso, quindi l'evento si sta qui nel campus a partire dal pomeriggio, con un ricco programma di manifestazioni teolatrali, laboratori, esperienze partecipate, seminari, concerti, recital, visite ai laboratori e agli stand scientifici, dove ciascuno potrà toccare con mano la quotidianità dell'attività di ricerca scientifica e le ricadute di questa attività nel quotidiano. Stiamo elaborando un programma al solito molto ricco che quest'anno si incentrerà sul motto che abbiamo scelto che è il sapere che include, quindi quest'anno noi vogliamo parlare di inclusione, di come la ricerca scientifica permetta l'inclusione in tutte le forme possibili e immaginabili. Se pensiamo a quello che ha fatto la medicina per permetterci di tornare ad avere una vita sociale o se pensiamo per esempio a quello che si può fare con le politiche di parità di genere, per esempio, o sulle politiche socio-economiche, per la lotta alle diseguaglianze, beh, questo sarà il tema che noi affronteremo. Quindi avremo una serie di seminari con ospiti illustri. Quest'anno noi abbiamo sottoscritto un accordo con Save the Children per la lotta alla dispersione scolastica, si chiama volontari per l'educazione ed è un'iniziativa che nasce appunto dalla presenza dell'Ateneo con fatti concreti sul territorio.